Folle del web dal suo account di Twitter incoraggiando chiunque lo segua a cancellarsi da Facebook, Tutto questo è successo davvero quando Jim McCary, il 6 febbraio, ha twittato di aver chiuso il suo profilo sul social network di Mark Zuckerberg e di aver anche venduto le azioni della compagnia che possedeva. Leggi, Jim McCary senza pace, l'accusa di non aver pagato i funerali di Katrina White Il motivo? Semplice, Facebook ha accettato, sotto forma di pubblicità, finanziamenti del governo russo in occasione delle elezioni presidenziali americane del 2016, vinte da Donald Trump. Lo stesso inventore del social con la F. Blue ha ammesso che effettivamente delle compagnie russe avevano acquistato degli spazi pubblicitari su Facebook da cui hanno potuto influire sulla corsa alla Casa Bianca del candidato repubblicano. Cary non è stato soddisfatto dal semplice riconoscimento della veridissima della tesi e ha deciso di boicotare le aziende di Menlo Park esponendosi in prima persona e inventando la hashtag di riferimento per la SUA Campana. Leggi, Jim McCary produttore di una nuova serie con Melissa Leo Leggi, Jim McCary